ciao ragazzi benvenuti a watching time oggi vi volevo mostrare questo bellissimo orris acquist nuovo appena uscito si chiama loris acquist new york harvard limited edition è un'edizione limitata di 2000 pezzi mi è stato gentilmente dato in prestito da grimoldi a milano principale vi raccomando comunque qualunque tipo d'acquisto volete fare sui marchi che loro trattano di farlo su grimoldi perché veramente un servizio squisito da anni compro da loro e mi hanno mandato gentilmente in prestito l'orologio per farvelo vedere era molto curioso di vederlo dal vivo perché presentava anche questo quadrante in madre perla e lo so ma la madre perla non non è un materiale per tutti infatti devo dire che non è proprio materiale adatto per me e in alcuni momenti può vestire troppo elegante in altri può invece non essere adeguato magari per un orologio sportivo come questo però dipende molto dai gusti da quello che uno vuole fare l'orologio comunque si presenta con un quadrante che è molto ma molto bello la lavorazione di questa madre perla di colorazione verde che nasce anche da quelle ostriche che crescono in questa parte della baia di new york e che loro cercano di supportare la preservazione comunque la conservazione di questa di queste oassi naturali di queste aree dove si riproduce e è una bellissima iniziativa non è la prima che fa oris oris ha diversi modelli d'orologi che supportano proprio la conservazione dell'oceano e questa è l'ultima collaborazione 2000 pezzi come vi dicevo ghiera interamente in acciaio che gioca fra il lucido e il classico quadrante dell'oris è uno dei altri motivi per cui non è un orologio per me la misura questo è l'oris 41,5 mm di solito in collezione ne ho quello a 43 mm essendo una cassa quasi praticamente assente de anse perché comunque non occupano molto spazio soprattutto nel polso il 43 loro di oris aquis calza molto più piccolo calza quasi come una cassa di 40 mm per cui quando si sono presentati con questa nuova misura 41,5 ero molto in dubito è una misura che in teoria sulle linee dovrebbe starmi in un polso di 18 centimetri però poi visto al polso c'è qualcosa che non mi soddisfa completamente ed è magari correlato anche al fatto che il cinturino va a ridurre il suo espessore verso la chiusura però è una questione totalmente oggettiva è un mio parere su un orologio sul mio polso per cui veramente aperto a discussione però a me è una misura che non mi piace tantissimo preferisco il 43 sull'oris aquis e questo era un punto non a favore per me ma l'orologio se fosse stato in 43 sarebbe stato perfetto per me e devo dire che è una bellissima proposta di oris e soprattutto l'utilizzo di questa madre perla casa ovviamente in acciaio e in questa versione si presenta con il cinturino in caociù e la chiusura il class classico di oris molto ben fatto non vi consiglio mai di tagliarlo se riuscite a regolarlo con la regolazione che è già presente qua e questo perché una volta che tagliate non si può andare indietro non commettete quell'errore lasciatelo come sta e se vedete che già regolabile al vostro polso perfetto è andata e cinturino in caociù verde una colorazione veramente particolare adatta a molte situazioni penso che un orologio in cui ci sono riusciti veramente a fare un buon lavoro il movimento in salita w200 con cui non ho mai riscontrato problemi se volete sapere più sui movimenti in house e anche farmi una domanda perché non li montano in tutti i loro orologi in questo presentano in salita w200 anche perché c'è una partnership una collaborazione e c'è anche una raccolta fondi per il new york harvard limited edition vedete mio altro video che ho fatto di recente sul pro pilot x e vi renderete conto da alcuni punti molto importanti tornando questo orologio l'altra cosa che mi sembra molto molto carina da parte loro è che presentano una versione in cui nella scatola troviamo anche un cinturino in acciaio è un strumento per il cambio veloce del cinturino veloce insomma dovete ovviamente cambiare le punte togliere le piccole vitte che si trovano qua e così facendo riuscite a cambiare il cinturino abbastanza veloce cinturino in acciaio è un tocco particolare in più lo troviamo anche nel limited edition di pelizzari non so se questa diventerà la norma loro anche lì trovate il cinturino in acciaio comunque ben apprezzato da parte di oris di presentarsi in questo modo e vi ripeto cerco di tenere anche breve questo video per voi che volete vedere i dettagli principali vi lo rifaccio vedere al polso e come vedete questo è un polso 18 calza nel senso lo posso portare tranquillamente sì assolutamente lo può portare anche una persona con un polso di 16 centimetri assolutamente sì lo può portare anche una donna tranquillamente è un orologio veramente versatile da quel punto di vista come vedete la colorazione del quadrante in madre perla è veramente particolare bene ragazzi spero che vi sia piaciuto questo video comunque oris è un marchio che a me piace e penso che magari in futuro vedremo le cose ancora migliore o più interessanti da parte loro e vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video fino adesso